Allora, innanzitutto salve a tutti e buon tutto. Voglio chiedere una cosa, voglio essere chiara e onesta con una cosa. Io non do importanza a quante pagine è il mio racconto dove spiego le varie forme dell'amore. Non do importanza a quelle come non do importanza alla scrittura, all'ortografia, ma do importanza al contenuto che voglio far arrivare alle persone. Voglio farle riflettere le persone, perché non riflettete tanto in questo mondo, in questa società. Andate sempre di corsa, non prestate attenzione a certe cose e non va bene. Non va bene. E poi che mi si viene a scrivere 9,50€ per 6 pagine e non vi mettete nome e cognome sopra dove c'è il nickname, non vi mettete la foto vostra del proprio volto e non vi mettete nome e cognome sul nome utente, io non vi posto questo commento, perché per me siete delle persone anonime, sconosciute. Ok? Quindi, se siete così, non meritate niente da me. Io non vi devo niente a voi. È inutile criticarmi a me qui. Io ho detto benissimo nel video, dove pubblico, pubblicizzo il mio libro, che dovete farmi le recensioni su Amazon, solo lì. Qua no. Perché qui a me non mi servono a niente. Invece di su Amazon mi servono. E mi servono. Lì sono importanti le recensioni. Ma io dico la gente proprio niente, non usa il cervello, non gli funziona proprio il cervello. Arrivarci su certe cose. Non c'è da contestarmi per le pagine. Io scrivo quanto voglio e come voglio i miei libri. Non siete voi a dirmi come devo pubblicare un libro, quante pagine ci devo scrivere. Ok? Io, come mi vengono le cose, faccio. Ecco. E così, gli artisti sono così, sono creativi. Quando gli viene l'ispirazione scrivono. Ecco. E io mi considero, anche se non sono famosa, mi considero un po' artista. Perché tutti siamo artisti in questo mondo. Tutti abbiamo un po' di nostra creatività. Ciao a tutti.